benvenuti alla scuola dell'infanzia bimbe e bimbi che accoglie 50 bambini dai 3 ai 6 anni il gruppo di lavoro è formato da insegnanti e personale ausiliario che si prende cura dei bambini delle bambine e delle loro famiglie con il supporto del coordinamento psicopedagogico la scuola promuove lo sviluppo dell'autonomia rispettando e valorizzando l'unicità e il talento di ciascuno gli spazi i tempi e i materiali sono progettati pensati e curati attentamente gli spazi interni ed esterni sono accoglienti e ben definiti per favorire il gioco e l'incontro in piccolo gruppo e promuovere la conoscenza di altro da sé senza perdere la propria unicità perché giocare è una cosa seria con il gioco si è e si cresce i materiali spesso naturali di recupero e destrutturati favoriscono nel bambino il pensiero divergente analitico scientifico mai convenzionale i tempi sono distesi e assecondano l'esplorazione spontanea di ogni bambina e bambino secondo il proprio percorso e i propri ritmi di apprendimento le insegnanti in continua osservazione e formazione offrono rilanci e approfondimenti per stimolare la scoperta lo studio e gli apprendimenti il rapporto con le famiglie si basa sul dialogo sulla fiducia reciproca e sulla condivisione del percorso di crescita delle bambine e dei bambini